Bella a tutti ragazzi che parla Foxound e bentornati nel canale The Walking Dead News Sporre altro, si ragazzi si mi dispiace di nuovo per un'altra settimana di inattività o anche di più Ma purtroppo ragazzi veramente sono stato impegnato tantissimo Poi come al solito come la voglia di registrare si mette in mezzo e quindi dice no tu non devi registrare Ma io dico io voglio registrare ma dai oggi non farlo fallo domani e poi facendo così passano le settimane senza che io me ne accorga Purtroppo ragazzi è così ma state tranquilli che cercherò di rimediare cercherò so che lo dico sempre Di cercare di portarvi appunto come sempre un video ogni due giorni almeno spero Non un video ogni giorno ma comunque ogni due giorni Cercherò ragazzi di impegnarmi a farlo perché voglio seriamente tornare a fare video Quindi state tranquilli che rivedrete i video come al solito Ci metterò un po' di tempo per tornare bene quello attivo Però state tranquilli che grazie al vostro supporto potrò tranquillamente riuscirci E che dire ragazzi come avete sicuramente oggi letto dal titolo siamo di fronte a una notizia davvero interessante O meglio a un video molto interessante perché andremo ad analizzare finalmente Quelle che sono le prime foto promozionali dell'episodio 8x9 Ovvero del mid season premiere che ovviamente vede purtroppo spoiler warning Per tutti quelli che non hanno visto l'episodio 8x8 La morte di Carl Infatti questo sarà l'ultimo episodio per Chandler Riggs Ovvero appunto l'attore che interpreta Carl Staremo a vedere appunto come lo faranno morire E come inciderà appunto questa sua morte nel corso della storia di The Walking Dead Perché a quanto pare dal produttore esecutivo ovvero Scott Gimple Colui che ha ucciso appunto Carl e vuole appunto Mettere diciamo la storia di The Walking Dead un po' lontana dal fumetto Cosa che i fan hanno addirittura aperto una petizione Che comunque se avete visto il video scorso lo sapete Dove vogliono licenziare appunto Scott Gimple per aver ucciso Carl E quindi insomma i fan si sono schierati un po' in due fazioni Quella di uccidi Gimple e quella di vabbè vediamo come va a finire Ma credo che uccidi Gimple sia la migliore fazione che per adesso sta vincendo Ma tralasciando questo Comunque andremo oggi appunto ad analizzare queste nuove foto promozionali Quindi andremo a dare un'occhiata su quelle che saranno queste foto promozionali Che sono davvero abbastanza spoiler Quindi se non avete visto l'episodio 8x8 Oppure comunque in generale non volete spoiler Consigo ovviamente di chiudere questo video Quindi insomma vi ho avvisati e niente Prima di iniziare come al solito io vi ricordo di lasciare un mi piace Perché ci tengo veramente moltissimo Inoltre iscrivetevi per non perdervi i prossimi contenuti di The Walking Dead E mi raccomando se volete entrare nel gruppo Telegram Mandatevi un messaggio privato nella pagina Facebook E cercherò di rispondervi il prima possibile L'ho un po' trascurata quella pagina ragazzi Perché appunto non l'ho aperta spesso Ma state tranquilli che da adesso in poi la aprirò molto più spesso Per dare la possibilità a voi di entrare nel gruppo Telegram Quindi mi raccomando ragazzi entrateci e mandatemi un messaggio privato appunto se volete entrare E che dire iniziamo subito con il video Foto ragazzi veramente molto interessanti Cercherò di mettervi il link in descrizione Se volete vedere le foto cercherò di mettere appunto tutte quante le foto in descrizione In una singola appunto file In un singolo file Speriamo di poterlo fare Ma a meno che appunto vi metterò un link Insomma non so adesso come mi organizzerò Però comunque le trovate in descrizione molto probabilmente Queste nuove foto promozionali che sono state rilasciate direttamente da appunto Interattim Weekly Che è un appunto una specie di ormai rivista ecco americana Dove praticamente posta di tutto quello che è delle serie tv ecco In particolare di The Walking Dead stessa Ma tralasciando questo non siamo qui per scoprire da dove vengono queste foto Ma comunque sono state rilasciate direttamente appunto Da questo appunto rivista insomma questo portale su internet E a quanto pare ragazzi queste foto mostrano davvero tantissime cose Le andiamo ad analizzare con calma La prima foto infatti ci mostra Melissa McBride ovvero Carol E Lenny James ovvero Morgan Non so perché sto dicendo il nome degli attori ma fa più figo Comunque tralasciando questo appunto ci sta In questa foto ci sono appunto Morgan e Carol Che sono dietro sostanzialmente a un camion Credo che questo sia il kingdom Perché comunque ricordate che Morgan era rimasto sostanzialmente dentro il regno Perché Ezekiel ha chiuso fuori praticamente tutti quanti gli abitanti del regno Per dare la possibilità a tutti di scappare E lui è rimasto dentro con logicamente il salvatore ormai che comunque è considerato un buon accione Insomma il salvatore buono Ovvero Gavin Infatti appunto vediamo Gavin e Ezekiel all'interno del regno E Carol e Morgan che sono fuori Molto probabilmente staranno scogitando qualche piano Per cercare di tirare fuori Ezekiel da quella situazione Perché ricordate appunto che Morgan nella fine dell'episodio L'ultimo episodio L'8x8 Ricordate che lui era dietro al cancello Dopo che Ezekiel ha chiuso Quindi sentiva chiaramente che Ezekiel c'era E che appunto Gavin era lì con loro Quindi un gruppo di salvatore lì con lui appunto con Ezekiel Quindi staremo a vedere un attimo che piano E scogitranno Carol e Morgan Per poter scappare Fa scappare appunto Ezekiel Secondo me sarà un piano davvero molto interessante Staremo poi a vedere Prossima foto Che non si sa bene cosa appunto mostra Ma cioè diciamo cosa Più che altro dove sia ecco il personaggio di Daryl Perché sì vediamo Daryl con la sua balestra Che credo non sia tornato con la sua balestra vera e propria Però comunque ci siamo quasi Non so bene appunto se poi si è ripreso la balestra Direttamente da Dwight Ma penso di sì Ma si è ripreso il giacchetto con le ali Quindi quando si è ripreso il giacchetto con le ali Sappiamo che Daryl è tornato in azione Quindi il nostro vecchio Daryl Vediamo appunto lui puntare il coltello Verso quella direzione Credo non sia da solo Infatti nella promo Infatti nella promo del mid-season Del mid-season E poi vi porterò l'analisi della promo Se la volete Ma insomma Quella è una cosa che comunque Se volete la posso portare tranquillamente Non l'ho fatta Perché ho voluto dare spazio ad altri video Ma comunque se volete l'analisi della promo Fatemi sapere voi con un commento qui sotto Vediamo appunto Daryl Indicare appunto col coltello Molto ovviamente Secondo me si trova con Siddiq Secondo me Perché nella prova abbiamo visto lui Nei boschi Insieme a lui appunto Insieme a A Daryl Quindi Potrebbe essere tranquillamente Che si tratti proprio di Una sorta di uscita Tra Daryl Pare brutto detta così Ma comunque Una ricognizione ecco Con Daryl E Siddiq Quindi insomma Potrebbe tranquillamente essere Adesso non mi spiego bene Il motivo per cui si sono uscite tutte e due Ma Insomma Non ne vedo il motivo Ecco Però staremo a vedere appunto Come si evolverà il tutto Prossima foto Davvero molto interessante Vediamo finalmente Judith Credo che appunto Chiaramente si tratti proprio di Judith E poi vediamo Maggie Che sta cercando di scrivere Molto ovviamente Adesso non so bene cosa stia scrivendo Negli appunti Ma chiaramente si trova Ad Hiltop Infatti Maggie Dopo appunto Aver ucciso quel salvatore A sangue freddo Dopo che praticamente I salvatori li hanno minacciati Siamo di fronte appunto A una situazione In cui Maggie Secondo me Della sua leadership In cui Maggie Praticamente non sa cosa fare Ecco cioè Nel senso è molto Molto alle strette Perché comunque Tutti quanti sono crollati Alexandria è crollata Hiltop Diciamo Possiamo dire di sì Il regno è sotto attacco Quindi siamo di fronte A una situazione Non molto difficile Cioè non molto facile Da gestire Soprattutto per Maggie Quindi staremo a vedere Come la sua leadership Influencerà appunto I successivi avvenimenti Ad Hiltop Staremo appunto a vedere Ma comunque io ho fiducia In Maggie Perché so che può gestire Tranquillamente le cose Ma staremo a vedere Ma staremo a vedere Come sarà giocheranno Tutti quanti Nella seconda metà Di stagione Che riprenderà Logicamente il 26 febbraio Per chi non lo sapesse E adesso arriviamo Alle foto più interessanti E alle foto più spoiler Di quello che sarà L'episodio 8x9 Vediamo Rick e Michonne Che Assistono Possiamo dire così Un Carl Ferito Su una barella Quindi chiaramente Vediamo appunto La faccia di Rick Sconvolta Una faccia di Rick Che dice Io non ci posso credere Michonne Che sta piangendo Non sa come Come sopportare Questa perdita Che dovrà Logicamente affrontare E poi vediamo Carl Che si trova Veramente Con tutto il corpo Sudato Perché ovviamente Sta per morire Quindi veramente ragazzi È una scena Troppo troppo triste Da vedere Insomma Una scena veramente Che ti fa Veramente Riflettere Su quello che potrebbe Succedere poi Nella seconda metà di stagione Perché comunque Vediamo Una perdita Che è veramente Una perdita importante Una perdita che Chiunque appunto Non si aspettavano Potesse mai succedere E siamo di fronte A questa situazione qua Ovvero al fatto che Carl ci sta per lasciare Quindi vedremo Insomma come Come Rick Più che altro reagirà Perché adesso Insomma un Rick Che non riesco bene A identificare Ecco a capire Come se la prenderà Insomma se la prenderà Come quando è morta Lori Se la prenderà Come appunto È stato ferito Carla all'occhio Che è uscito Ammazzato tutti gli zombie Non so bene cosa Succederà Nel nostro Rick Ma sicuramente Sarà un Rick Molto più cazzuto Di quanto era prima Speriamo di poterlo Far tornare Ai ben vecchi tempi Della quinta stagione Sarebbe davvero Una cosa figa Prossima foto E ultima foto Di queste che sono State rilasciate Vediamo appunto Una cosa strana Perché adesso Non capisco bene Perché ecco Siano In questa situazione Sicuramente Sono usciti Secondo me Da quel tunnel Là E vogliono cercare Appunto Di scappare Da Alexandra Secondo me Perché comunque Insomma Non credo Questa foto Sia prima Logicamente Dell'attacco Ad Alexandra Questa è una foto Chiaramente dopo Quindi vediamo appunto Rick Michonne E Carl Che più che altro Carl viene portato Da Rick E Michonne Via E una casa Dietro in fiamme Ovvero il fatto Che comunque Alexandra Sta ancora bruciando Comunque Quindi non so bene Se adesso Negan sta continuando Ad attaccare Alexandra Oppure appunto Si sono accorti Salvatori Che loro Non sono più Tra Appunto Tra i boschi Insomma E sono da qualche parte D'Alexandra Quindi avranno Trovato il sotterraneo Adesso non so bene Il perché Ma comunque Sono usciti Quindi sicuramente Appunto Dopo un po' Usciranno Da quel posto E niente Proveranno sicuramente A scappare Da qualche parte Però ragazzi E' veramente Una cosa interessante Perché adesso Non sappiamo bene Se Alexandra Diventerà un nuovo posto Appunto Abitabile Tra virgolette Dal nostro gruppo Oppure insomma Poi verrà successivamente Ricostruita Perché chiaramente Nel flash forward Che abbiamo visto Nell'8x1 Chiaramente appunto Quando Judith Ha portato fuori Rick Si è visto appunto Tutto quanto Ricostruito Quindi molto probabilmente Quello sarà Quello che succederà Dopo ad Alexandra Non credo che sia La fine di Alexandra Se quella logicamente Non è una fantasia Di Rick Che si è creata appunto Nella sua immaginazione Però non so bene Adesso come Come sarà Come sarà quel flash forward Se è un flash forward Reale oppure no Ma comunque Insomma Sono al di fuori Di appunto Di quel tunnel Sotterraneo Di Alexandra E sicuramente Cercheranno di scappare E portare Carlo Magari da qualche parte Adesso non so bene Se dove morirà Carlo Ecco In che posto Morirà Carlo Come morirà Carlo Ma sicuramente Sarà un episodio Ragazzi Veramente Che ci spezzerà il cuore Sarà un episodio Che cambierà veramente Le sorti di The Walking Dead In maniera pazzesca Perché comunque Adesso inciderà Anche su parecchie cose Sui ratings Su tante altre cose Tante altre piccole cose Che possono veramente Far capire Che The Walking Dead Sta andando veramente Verso una legge Pian piano Diciamo Verso la sua conclusione In quanto poi alla fine Dovrebbe esserci Il ciclo dei sussurratori E dopo il ciclo di The next world Appunto Insomma Il ciclo di Scusate The new world order Non so cosa ho detto The next world È un episodio Vabbè Lasciate perdere Comunque New world order Che comunque Per chi ha letto il fumetto È una parte molto importante Della storyline Che poi Spoiler Alert I produttori Vorrebbero saltare Cioè Si è fatta questa Voce Insomma Questa rumor Che i produttori Vorrebbero saltare Il ciclo dei sussurratori Vi porterò un video Ragazzi a riguardo Perché è una notizia Davvero interessante Che voglio analizzare Con calma Ma Ricordatevi Quello che vi ho detto Perché è possibile Appunto Che vedremo direttamente Quello che è Il new world order Non so bene adesso Se sarà così Però staremo Appunto A vedere Quindi niente ragazzi Queste erano Le foto Fatemi sapere voi Nei commenti Cosa ne pensate Cosa secondo voi Cederà dopo la morte Di carle Come si evolverà La storia Insomma fatemi sapere Voi nei commenti Cosa ne pensate Tutto questo E che dire ragazzi Grazie per essere arrivati Appunto a questa parte Del video Se il video vi è piaciuto Come al solito Vi ricordo Nel solo mi piace Perché ci tengo Veramente moltissimo Inoltre iscrivetevi Per non perdere I prossimi contenuti Di The Walking Dead E passate Nella pagina Facebook Che per entrare Nella pagina Facebook Cioè scusate Nel gruppo Telegram Dovete passare Nella pagina Facebook Mandarmi un messaggio Privato lì E poi io vi inolterò Successivamente Il link E potete entrare Parlare con me Parlare con gli altri Fan di The Walking Dead Parlare anche di altro Perché comunque Insomma non parliamo Soltanto di The Walking Dead Ma chiaramente Il gruppo è incentrato Su quello Quindi se volete entrare Appunto Mandatemi un messaggio privato Grazie a tutti ragazzi Per essere arrivati qui Su questo video E che dire Ci sentiamo a un prossimo Speriamo ad un prossimo Il prima possibile Un saluto Da The Walking Dead News Spoiler e altro Bella Ciao a tutti Ma io ti ucciderò